Allora, è tutto pronto per la serata? Oh, certo. Inizieremo con una minestra e un'insalatina leggera e poi si vedrà. Non mi riferivo alla cena. A quella cosa. Oh, certo. Il veleno. Il veleno per Cusco. Il veleno scelto appositamente per uccidere Cusco. Cusco è il suo veleno. Quel veleno. Sì, quel veleno. Eccolo qui. Eccellente. Due o tre gocce nel suo bicchiere, io proporrò un brindisi e lui morirà prima degli esseri. Il che è un vero peccato, perché sarà una delizia. Boom, boom, baby! Diamo un senso alla serata. Sono un re di larghe vedute, ma ho una fame che non ci vedo. Nessun rancore per il licenziamento, vero? Assolutamente. Krong, servi da bere all'imperatore. Bere? Ma certo. Vostra altezza. C'è qualcosa che brucia? Il mio sorbattino di spinaci! Il fondo sembra simpatico. Sì, infatti. E quanti anni avrà una ventina? Non saprei dire. Sono salvi! Splendido! Fantastico, bravo! Ottimo lavoro! Attenzione! Sono ancora bollenti. Krong! L'imperatore voleva... bere! Certo! Oh, ma certo! Ehi, Krong, tutto bene là dietro? Ecco, è che... le babalde erano un filino... fredde! Ehi, avete visto oggi che c'è lo? Blu per dire... Sì, Krong, incantevole! Propongo un bel brindisi! Lunga vita a Cusco! Non bere questa roba! Dissetante! Evviva! Ottimo lavoro, Krong! Oh, è facilissimo. Ti do la ricetta, se vuoi. Adesso sbarazziamoci del corpo. Dunque! Stavamo dicendo? Oh, ecco, stavamo brindando alla vostra vita... che possa essere lunga e... in piena salute. Grazie. Allora, che farai adesso? Dopo essere stata qui per tanti anni... aiutami a dire tanti... potrebbe essere... difficile, per una della tua età, rientrare nel settore privato. Ehi, Krong! Dammi ancora un goccetto, fammi il favore! Comunque, se pensi a un nuovo lavoro... Credo... credo che sarà difficile. Vuoi broccoli? Perché, diciamocelo, non sei più una bollastrella di prima penna. Ecco. In senso buono, ovviamente. Cosa? Un lama? Dovrebbe essere morto stecchito! Già, curioso, eh? Fammi vedere quella fiala. Ma questo non è veleno! Questo qui è estratto di... chiamato! Posso dire a mia difesa che i tuoi veleni si assomigliano un po' a tutti. Dovresti riordinare l'archivio. Portalo fuori città e finisci l'opera! Avanti! E la cena, scusa? Krong! È una questione importante! E il mio dessert? Beh, forse troviamo il tempo per il dessert. E il caffè? D'accordo. Una tazzina veloce. Poi portalo fuori città e finisci l'opera!